Signora! 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 Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo gioco horror di The Grudge Ok, basta Questo gioco horror l'ho scelto così a caso Bene, abbiamo detto già tutta la nostra Come ti chiami? Incominciamo subito Ok, come ti chiami? Ugo Iniziale Ugo U Ugo Iniziale U Ugo Lettera di accettazione Ok Ugo 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 Per quattro ore La Landry Che sappiamo tutti cos'è E' in Sopra le scale Nella stanza Cambiamo La pecora Che è ships Ma ci assomiglia Nella mamma che c'è Nella A dare le pillole A dare le pillole alla pecora Che è la mamma Nella stanza Da letto Abbiamo capito tutto Allora Ugo 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 E' proprio una cosa spaventosa Ugo Ugo Cominciamo Ugo Cominciamo Fermi tutti Non fare sti sospiri Che è la porca Stai 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 Fermi Calmi 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 Non dobbiamo fare come C'è il door Per chi non l'ha visto Lo vado a vedere Perché Perché me Salute Non ci riesco Oh beh La televisione Ci sono degli occhi Nella televisione Mi sto cacando Un po' sotto Telefono squilla Uno Uno Vai L'odio sto gioco Di già Io l'ho No 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 Ugo No Ugo 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 Sembra Sembra che stia male Mi sta Mi sta facendo Rabbrividire Non poco Non poco Allora Una fotografia Oh mio dio Adesso E qua non c'è più niente Delusione Veramente Veramente una delusione Ah siamo ancora qua Sì Sì Poi c'è la foto Bla 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 Ugo 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 Ok Oh Sono meno spaventato Di prima Sì Sì Noi Non ho paura Di niente Io Tipo Di una lampada Di un Citofono È ancora qui Dannazione Dai Non ho paura Di niente Io Se posso affrontare Qualsiasi cosa Sempre che non sia spaventosa Ho fatto pure rima Lol No No io Non sono spaventato Però Però Sempre assicurarsi Che qualcuno Non ci sia dietro Ricordatevi No ho paura Oh 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 No! Non sto spiangendo, no, 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 che cosa sto facendo, mio Dio, mio Dio, mio Dio, rifacciamo tutto, rifacciamo tutto, skip intro, va, what's your name, fermi tutti, questo è un gioco che fa veramente cagare sotto, è il gioco più pauroso forse che abbia mai fatto, lo dico ogni video che sto facendo, ed è una cosa assurda, non mi piace questa cosa, che mi stia specializzando su questi fattori, donnazione, mettiamo John Dio, era John, John, Dio? Ha, 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 adesso che sono John, Dio, non mi puoi fare niente perché io sono T, purun, purun, si, pim, 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 basta. Allora, visto che su non dovevamo andare, basta, si, me l'hai già detto. Andiamo, su, non abbiamo paura di niente noi! No, io, no, guarda, sono qui! Ton, 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 John, Dio, sono io! Possiamo uscire adesso, possiamo uscire, possiamo uscire, abbiamo visto nell'armadio, non c'era niente, ok? Va bene, possiamo uscire, possiamo uscire, non abbiamo paura di niente però, ricordatevelo questo, ricordatevelo sempre, non abbiamo mai paura di niente, niente, le porte cigolano, è normale, e le cose si aprono. I bambini sono nell'armadio! No, no, esci, 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 no, c'è il ruttaio, c'è il ruttaio, no, no! Sono morto! No, no, no! Avanti sotto, avanti, avanti! Tranquilli! Siamo morti due volte! Non c'è due senza tre, no, lo diceva pure Gesù prima di morire. John D, John D, sono io, sì, sì, però sono morto lo stesso. Basta, perché spoglio sempre! Comunque, The Grind è basato su un film che si chiama appunto The Grind, The Grind, e non so, non l'ho mai visto io, e dico che mio padre ha detto, è una cavolata quel film! E quindi, non lo vedrò! E io mi chiamo Giuguru Gugu! Stavolta io mi chiamo K-H, perché K è come dei miei Jonas Brothers. Che, che cosa stai dicendo, stai dicendo, dei Jonas Brothers? No, stai dicendo dei, come si chiamano? Dei blues, sì, dei blues, dei, degli One Direction. Oh, stai dicendo, stai dicendo, stai dicendo, stai dicendo, stai dicendo, stai dicendo che non c'è 5 senza 4, Ok, va bene. Sì! Cibo marcio! La colazione di ogni bambino prima di andare a scuola. Allora, vediamo, in queste stanzette che cosa c'è? Ah sì, la fotografia, quella... Tata, 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 tata! Tata! È il bambino cinese! È il bambino cinese di prima! Ho fatto un casino, tipo, no? Tipo, tipo. E sono tornato qua. Questo che rutta! Scusatemi se è maleducazione, ma... Eh, maleducazione va anche per lui. Allora. Basta! Basta! Mi hai rotto il cudo d'adro! Comunque, se volete vedere questo film... No, scherzo. Questo gioco... Le scale, le scale! Prendiamo le scale! Torniamo su dove eravamo prima! Eh, il soggiorno qual'è? Eh, il soggiorno ci siamo persi nel bidet! Eh, il soggiorno ci siamo persi, ci siamo persi! Ci siamo persi nel bidet, di questa casa che ha un bidet, e questo che rutta è un bidet, e tutti siamo nel bidet, bidet, bidet... Allora... Le scale dovrebbero essere di qui, quindi io dovrei prendere le scale... Però mi trasporta nelle, le, le, la sala di mezzo... Allora... Forse è di qua. Cavoli! Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare indietro, e non siamo ancora morti, 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 morti, morti. Non siamo ancora morti, non siamo ancora morti, non siamo ancora morti, mai, 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 mai... Allora, eravamo rimasti qui, ed eravamo tornati qui, per l'appunto. E poi c'erano queste tre scelte, tra queste tre scelte, allora dovrei scegliere questa qui, no? Proviamo! Oh, grazie a cielo signore! Mi spavento sempre, ma sempre, è una cosa proprio allucinante. Comunque questo gioco è gratuito ed è... No, questo è per tornare giù, vorrei andare in bagno, ma purtroppo è chi... Andiamo in bagno, andiamo in bagno, così ci facciamo ammazzare un'altra volta! Asci, 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 per un pelo, per il pelo di San Pielona. Allora, noi dovremmo andare a destra o a sinistra, destra o a sinistra, dritto, destra o a sinistra, dritto e destra. No! No, signore no, per il conforte, signor 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 signor! Bene, grazie a tutti per avermi visto! Io sono ExitMan77, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel commento che ho scritto un altro gioco horror da fare. Ovviamente guardate quelli che ho fatto, ma anche se sono pochissimi. E quindi, grazie a tutti per avermi visto, io sono ExitMan77, ciao a tutti! Grazie!